Peugeot 3008 è l'auto dell'anno 2017. La giuria del prestigioso premio, composta da 58 esperti giornalisti europei, ha apprezzato all'unanimità lo stile, il design interno, gli equipaggiamenti high-tech e le prestazioni del nuovo SUV del Leone, che si distingue per lo spettacolare i-cockpit di ultima generazione e per una gamma di motori d'avanguardia PureTech benzina e BlueHD diesel, con potenze fino a 180 cavalli. A contendergli la scena nello stand al Salone di Ginevra, Peugeot Instinct Concept, che concretizza lo stritto legame fra il marchio e la nozione di piacere, trasmessa da un veicolo a guida autonoma. Un'auto con carrozzeria Shooting Brake, sviluppata in simbiosi con tutto ciò che può identificare un modo nuovo di vivere la mobilità. In Italia debutto per la nuova serie speciale 108 Collection, tenuta a battesimo dal cantautore Mika, estroverso dandy urbano, protagonista anche di una campagna pubblicitaria fuori dagli schemi. Colori audaci, in un universo di personalizzazioni, l'elegante City Car Peugeot viene offerta a tre e cinque porte, anche in versione top con tetto apribile e motori benzina VT o PureTech da 68 oppure 82 cavalli. Debutto stagionale nel campionato nazionale rally per il Team Peugeot Sport Italia. Partenza al rally del ciocco per la 208 T16, con la coppia di campioni Paolo Andreucci e Anna Andreussi alla caccia del decimo titolo pilota e costruttori e per la 208 R2 della coppia junior Marco Pollara-Giuseppe Princiotto, che è già in testa alla classifica di categoria.